I GP Marche, una bella soddisfazione finalmente? Una grandissima soddisfazione, ha dimostrato che lavorando insieme si riesce ad ottenere qualunque obiettivo. Abbiamo lavorato insieme il consorzio, gli uffici, l'Assam, il nostro servizio è stato a disposizione, così pure il ministero, e quindi in pochissimo tempo, neanche un anno, siamo riusciti ad ottenere questo prestigioso certificato. E cosa cambia adesso per l'olio marchigiano? Cambia molto perché la certificazione di qualità, il nostro olio ha delle qualità particolari, un'acidità inferiore allo 0,4%, una fluidità particolare, molti polifenoli che lo caratterizzano proprio come uno degli oli migliori d'Italia, la più bassa acidità di tutti gli oli certificati. E quindi già lo sapevamo, però la certificazione aiuta ad aggredire dei mercati che vogliono e pretendono che la qualità sia dimostrata anche da certificazioni e da controlli. E quindi il disciplinare è un disciplinare rigido, ma che consente di inserire 12 cultivar, e quindi insomma tutte le marche avranno la possibilità di essere inserite. Grazie.